Atti vandalici durante la scorsa notte, i danni dell'auto del sindaco di Castellaneta, Giovanni Gugliotti, che ha deciso di ricandidarsi per le prossime elezioni amministrative. Si tratterebbe di olio, uova e catrame versati sulla sua automobile. Secondo quanto affermato dal primo cittadino, quest'ultimo sarebbe un danno lieve rispetto ad altre maggiori entità procurati in precedenza alla sua auto e alle auto di altri consiglieri. L'episodio si sarebbe verificato fra le 22.30 e la mezzanotte, mentre il mezzo era posteggiato nel parcheggio del municipio. Aspetta adesso i carabinieri a effettuare le indagini del caso, acquisendo i filmati delle telecamere presenti nella zona dove si è verificato l'episodio.